farmaci antidepressivi assolti se assunti correttamente da pazienti che ne hanno bisogno e sotto controllo medico sono medicinali sicuri si può sintetizzare così la conclusione di un maxilavoro internazionale che ha esaminato i dati di 45 meta analisi raccogliendo le evidenze di oltre mille studi con un focus specifico sugli effetti di questa classe di prodotti a guidare la ricerca condotta da un team di scienziati da europa america canada e asia sono elena dragioti ricercatrice di epidemiologia all'università di linkoping in svezia e marco solmi medico psichiatra e ricercatore presso il dipartimento di neuroscienze e il padua neurosciences center dell'università di padova la prescrizione di antidepressivi è aumentata a livello globale portandoli a essere tra le medicine più prescritte tuttavia in letteratura vengono pubblicati risultati contrastanti sulla loro sicurezza e questa è la premessa che ha ispirato la revisione che su farmaci antidepressivi decreta così attualmente nessun effetto negativo sulla salute è sopportato da evidenza con un grado forte di credibilità secondo vari criteri oggettivi quantitativi i risultati delle precedenti meta analisi che mostravano un'associazione tra assunzione di antidepressivi e eventi avversi sulla salute erano gonfiati da errori metodologici sostengono i ricercatori